Saracinesche abbassate e parcheggi off limits non solo la zona rossa. Anche qui in via 29 settembre dalle 13.30 il traffico verrà interdetto per lasciare il posto ai cordoni e alle misure di sicurezza in vista del concerto delle 19.30 all'interno del teatro delle Muse. Il G7 prosegue all'interno della Mole ma non senza polemiche. Gli esercenti hanno deciso di abbassare le saracinesche e di tenere chiuse le loro attività. Troppo poco movimento dicono. E allora abbiamo fatto un giro all'interno della zona rossa. Cerchiamo di capire e di sentire quelle poche persone che hanno deciso comunque di lavorare e chi invece transita in questa zona. Come si è trovato in questi giorni così particolari per Ancona? Siamo aperti regolarmente perché effettuando un servizio alla città insomma ci sembrava giusto. Non abbiamo avuto disposizioni in merito contrarie quindi come tale siamo aperti. Nel pomeriggio per rispettare appunto la sensibilità del vertice quindi della zona rossa decidiamo di stare chiusi. Sono solo due giorni, due o tre giorni insomma. Pazientiamo con piacere. Non ci sono strisce pedonali per attraversare la strada, alla stazione. Non sono indicati gli autobus che vanno in centro. I marciapiedi non ci sono. È un incubo. Semplicemente la viabilità pedonale. Mi riferisco a questa. No. I grandi livelli, gli aeroplani, i jet o la rete. La viabilità pedonale. Il pedone che cammina per Ancona fa fatica. Limitazioni scomode ma necessarie. Infatti la parola d'ordine è garantire la sicurezza durante tutto il vertice, eventi inclusi. Via terra con un pattugliamento serrato di polizie e carabinieri, in cielo con elicotteri della Questura a monitorare la zona rossa in questo G7 d'Orico e via mare con oltre 20 mezzi specializzati. A proposito di economia blu, a stopparsi in questi giorni anche la piccola e grande pesca. Un fermo necessario per il comune, ma non senza remore, da parte della categoria. La situazione non ci costa. Ci costa. Tutta la settimana fermi, tra mercato, cooperativa, non vendiamo gasolio. A noi ci costa più di un milione di euro. Questa situazione è questa. Abbiamo chiesto rimborsi, ma non se ne parla. Il sindaco chiede pazienza. Sì, sì, il sindaco chiede pazienza. Iniziamo un negozio, sta chiuso un giorno e è a posto. Tutta la settimana abbiamo perso. È una settimana d'ottobre, una delle settimane migliori di tutto l'anno. Veniamo da un mese e mezzo di fermo biologico, quindi è un sacrificio grosso per noi.